Pazienza perché purtroppo sono situazioni che non dovrebbero verificarsi, ma purtroppo in questa situazione qualche inconveniente si può verificare. Pazienza e aspettiamo di fare il vaccino tutti, così possiamo liberamente ritornare alla normalità. Invita la pazienza e a sdrammatizzare l'assessore al bilancio del Comune di Salerno, Luigi Della Greca, ieri tra le vittime del disguido che ha portato a convocare presso il centro vaccinale di Matierno pazienti fragili che avrebbero dovuto essere vaccinati con Pfizer e non con AstraZeneca. L'assessore della Greca e tra i cittadini salernitani che, convocati già una prima volta presso il centro vaccinale, hanno dovuto rinviare la somministrazione perché ritenuti pazienti fragili. Per un disguido del sistema, molte persone, tra le quali anche pazienti non deammulanti, ieri però sono stati convocati al centro vaccinale di Matierno, dove si effettuava la vaccinazione con AstraZeneca. Un disguido, come lo ha definito l'assessore al bilancio del Comune di Salerno, che già nel pomeriggio di ieri, così come gli altri pazienti, ha ricevuto la nuova convocazione per la vaccinazione presso l'ospedale di Battipaglia. Un disguido del sistema che gestisce le convocazioni, perché ci hanno considerato come fosse sempre la prima convocazione. Quindi, avendo fatto le convocazioni, non ha fatto distinzione il sistema per quanto riguarda questi che avevano già avuto una prima convocazione. Penso che la situazione non va drammatizzata. Sì, c'è stato un disguido, però abbiamo fatto una passeggiata e un po' di fila che poteva essere evitata, però niente di drammatico. Grazie. 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 Grazie.